Quello che è successo è sempre evidente, tutta l'estate Forza Italia ha detto facciamolo io scola, abbiamo presentato la proposta di Forza Italia e Forza Italia l'ha bocciata, perché si chiacchiera sempre e non si raggiunge mai un obiettivo, perché alla fine prevale il posizionamento e dire che noi se il governo presenta una cosa che condividiamo la votiamo, si vede che loro non sono in grado di farlo.